Buongiorno a tutti i nostri nomi Buongiorno a tutti il mio nome è Drake Clan Io sono Harry, siamo con il film di ritrati su Lay of Fear Siamo qui nel secondo episodio, ho subito dopo registrato il primo Siamo sempre qui con Morgan Il mio cuore sta esplodendo Qui con Lorenzo e Radek che fanno da compagnia Radek... Lorenzo non salutare Allora, allora mi spiego la situazione Zacca che se ne sbatte Ti devo chiamare Drake o Zacca? Ma fai come cavolo ti pare Zaccaria, Gabriele, ho chiamato Zacca Ferocio Mamma, dammi un po' da bere che sto morendo Allora, abbiamo Drake Che sta dando solo consigli Che sta facendo un cazzo Da bere, da consigli Io che sto morendo pelin forte insieme a Radek Che ha le cuffie e sente tutto E io che sto morendo, ma di sete? Tu che stai giocando a Yu-Gi-Oh? Lui che gioca a Yu-Gi-Oh? Si che non è ancora iniziato a gioco perchè deve caricare Cazzo che devi caricare Cioè, tu pensi che io ti sento Con questo sputo di coca O vuoi giocare o vogliono stare qua nel menù Tutta la vita Cioè, sei un maiale Sei un doppio maiale Possiamo iniziare, vai Vai gioca No, non possiamo iniziare Oh, è già passato un minuto, ti vuoi picciare Ti vuoi picciare, why you? Cazzo, dici tu, cazzo me ne fotte Oh, questo ne avevo notato Ecco dove era la... Non è la chiave Ma è un ventaglio Che cazzo si deve pulire il culo? E continua a piovere Anche questo si può Prova a dormire Ma vaffanculo C'è, un lavello Lui questo me lo prende e lo vado a riveligare Le canzoncine deprimenti Ralec, mi fai sentire un po' che... No, aspetta, mettiamo via il bicchiere che faccio un zambio scherio qua Ma ce l'hai? Naffio tutto No, no, meno un po' perché ti fa vedere gli oggetti che hai Non esiste? Non hai oggetti Non hai oggetti The new face of music Ah, come al solito Zacca vi lascerà qui tutto se lo volete leggere e tradurre Noi non abbiamo palle di farlo Beh, si possono mettere in pausa Scusa ma... E voi perché hai cancellato le parole? Premix Premix Aspetta, assolutamente che non si riesce... Ah, qua x Ah, c'è la traduzione, sono un genio Eh, però se vedi dove c'è cancellato ci ha messo i punti Allora meglio così Mi pare che la parola... quella in basso a destra Office... One off è qualcosa Stadium mi pare Question night Next text o next Next night One Vabbè vaffanculo raga Eh, ve lo traducete voi Date dei consigli a Zacca C'era già la traduzione C'era la traduzione, dai andiamolo a vedere tanto No, no Eh, ma non c'è scritto di prima lettera Eh, son tre vabbè Ma secondo me il scopo del gioco è sapere la storia almeno Potevamo leggere tutto Non lo voglio sapere la storia perché poi dopo ho più paura Magari c'è una bambina stuprata morta e me la deve trovare E che poi la bambina si vendicherà su di me stuprando me e vaffanculo che io non c'entrò Ma quello ti succede già in classe quindi dovresti essere situato Esatto Eh, però non nei videogiochi Ah, adesso Almeno non lì Ma... Cerca una torcia qualcosa Vabbè raga posso vestirmi bene perlomeno Vabbè Ti puoi vestire con le bottiglie Io non ho ancora capito la storia Come funziona Sto qua entrato in casa di qualcuno No, no È casa sua in realtà Cosa è che ha perso? È casa sua È sua figlia È sua moglie Però vuole fare l'ultimo dipinto prima di Bocca No, ha detto che vuole un ricordo dell'unica cosa Ha detto voglio un modo per riportare indietro l'unica cosa che avevo cara Che sarebbe sua figlia L'ho prostituta nell'altro giorno Vabbè E allora ho trovato il collare da cania Tette Tette Wow Esci dalla stanza Ma se me fanno eccitare quelle non so più Esci dalla stanza Per favore Esci dalla stanza Dai vai lì dove c'è tanto sangue schizzato per tardi Non mi si apre la porta È chiuso a chi ave Ma scusa Ma c'è qualcosa? A piano di sotto c'era una porta che non aveva Ragazzi ma posso dirvi una cosa Se questa è casa sua Ed è casa sua Perché spacca le bottiglie per terra? Perché? Cioè io non abiterei mai nella casa del genere Vai fai vedere il biglietto leggiamo un po' X Guarda di nuovo col cane Guarda dove faccio il semplice domande E sei fottuto il cervello Sai che stai pensando in un brutto periodo? Ecco perché all'inizio ero d'accordo a lasciarti fare quello Con le illustrazioni Ok Vabbè c'è qua proprio Il numero dei vecchi tempi Un porcine Ti ho preso il dato Il proposito di un campione È semplice perché Mi spettano che Mi spettano che La cosa bella È che Noi che ci siamo di fianco Non sentiamo quello che dice Immagina cosa sento Lui legge così E' arabo Perché perché ogni tanto striscia via qualche parola Si si Non mi servono Guarda la cosa del lupo Guarda l'immagine Eh aspetta No devi guardarlo Ma quella è un fiammifero Si Ma non posso dare fuoco alla casa Guarda l'immagine Guarda l'immagine E' uscito dal culo No torna indietro Torna indietro Ah è uscito dal culo vedi Ha sfondato il letto E' uscito dal culo Gli è uscito dal buco del culo What the fuck is this Si ma ce le fai vedere tutte almeno le foto di me Le ho fatti vedere tutte Quella lei era l'ultima Bella zi Ma che cazzo Ma è bruttissimo Wolverine Ma sei in cesso fra E' una scimmia umana E' una scimmia umana E' una scimmia umana Raga ma gli manca la scimmia umana E' una scimmia umana Serio figa gli manca la parte di sopra della testa C'è il tuo wifi Ma tu sei in zopo Caricava via la scimmia 3G No ma perché E' uso il tuo cazzo Raga secondo me la chiave è la però io la non ci voglio tornare Ma sembra che sia zopo il tipo Cammina a scatti Ma giro a sinistra un altro Andietro C'è il coso Sistra C'è la barriera No c'è la barriera E' il coso Allora Prova a aprire questa qua a destra E' bloccata E' bloccata Non è che la chiave si usa in una qualche maniera Scusa Zacca non è che potresti giocare Tipo premi la freccetta in su No no Vediamo se cos'è la chiave C'è abbiamo la pippa al culo tutti Morgan andai a giocare tu perché sei quello che viene bullizzato Morgan non è che sei giocato io Scherzo scherzo No allora ragazzi Facciamo Jansker Io sto premendo Io sto premendo tutti i tasti che posso Devi trovare un'altra chiave Scherzetto Morgan Scherzetto C'è un po' la luce vai entro entro tranquillo Ma Vabbè ha detto ci siamo gente Eh si accende automaticamente la luce per lì Eh c'è un sensore tranquillo C'è la figata La faccia del sensore C'è la figata Casa di Bode No cos'è sta cosa Ah è un giocattolino va bene Un giocattolino Eh è un giochino di giocattolino Fai girare quel dindon dindic Tieni premuto Sono anch'io a casa quello Non voglio più giocare a questo gioco Apri il cassetto Apri il cassetto Adesso sto cercando di prendere i cassetti Qui cosa c'è? Oh 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 Pastelli Ragazzi cerchiamo le mutanti della bambina E facciamo i pedofili Allora Diciamo che sei Cos'è neanche la madre La bambina non è la madre Facendo i disegni così La madre Non hai mai visto la madre No E per fortuna E invece ce l'ho fatto vedere A scuola ce l'ho fatto vedere Ma pur di francese Di francese Si Ti giuro Eh presente quando finisce la terza Che ti fanno vedere il programma Cosa c'è scritto lì? Eh film 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 Vai su 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 C'è scritto qualcosa o no? Eeeen No Ah no Sono da tracazzo Sono da tracazzo Berry 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 C C D E Ah faccio prima così? No 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 Non sono parole corrate Beh però c'era beer Beer è orso No c'era scritto code Code Eh code bt Raga forse mi servirà più avanti Ma per il momento Cerca nel cassetto Vai nel cassetto Ho già cercato nel cassetto Non quelli Quello lì dove c'è il cosino lì Che gira Quello Ma che cazzo Adesso guarda dove Do per tu Ecco le morgan Sei soddisfatto? E' anche sporco Che schifo Quello l'ho pulito Trenini Che animali che mora No Fai vedere lì apri i trenini A me piacciono i treni No Mi piacciono i treni Questo dicevo io Raga Ma sto sti diventando Ma è una chiave Ma è una chiave No Ma è un vantaglio del cazzo Appunto Vai dietro Quello lì dentro cos'è? Non lo so Non lo so Chiudi Sotto Eh vabbè Fai stendo tua madre Puttana Metà però eh Ma che cazzo ci sti Cerchio? Prova di inchinarti Inchinarti? Che cazzo dove hai fatto? C'è un buco dentro Non può non può Non è un piatto Ah poi zoom Che cazzo hai caricato? Zumba Ah prova adesso Forse adesso si muove la mano però Zumba Cuccazza merenda Non c'è un cazzo Vai Non so Prova ad aprire l'armadio Io gli entro nel letto Possiamo dormire un po' No possiamo dormire Soprattutto con quella bambola Dovresti provare di tornare al primo piano Prova di tornare al primo piano Eh piano a terra vuoi dire? Raga non sapete che se prendiamo Guarda se prendiamo tutte e due i cosi questi qua Va più veloce Corre Bene Abbiamo a scoprire come si corre almeno Raga Guarda la porta destra Destra Eh? Quella lì Leggi Ah è una porta Hai la chiave Hai la chiave Però prima leggi Traduci Sì Raiden Touch Ok Siamo toccati il laboratorio Se bene non riesca a immaginare il disore che ci sia dentro Inoltre se ci tiene così tanto quella stanza Forse dovrebbe fare più attenzione Dove lascia le chiavi Li ho rimessi nel suo ufficio Buona giornata Nel ufficio? Ci siamo più Ci siamo più Allora penso di averlo già visto Però Ah un'altra porta Questa non l'abbiamo aperta Non l'avevamo vista Puoi aprirla vai Per farti notare Eh No io direi di aprire prima quella di sinistra Allora questa chiudila Questa chiudila ci andiamo dopo qua Perché già che si va in cantina Vabbè apri l'altra che sarà Chiudi Ti nascondi dietro al porta Ah c'è sta Apri quell'altra Di sicuro è meglio di andare lì in mezzo alla stanza Allora finchè Stiamo Vai apri Secondo me se andiamo No Ok ho usato la chiave Ok ho usato la chiave Noo questa cazzo Noo no no Guarda che disegno del cazzo Vuoi vedere il disegno Vuoi vedere il disegno Vuoi vedere il disegno No dovrebbe essere vuota Eh la cosa la devi fare No no togli Doveva essere una jumpscar questa canzoncina Un obiettivo Un obiettivo C'è la manopola È caperto per un motivo Ah Perché mi sa che dopo aver causato questo quadro succederà qualcosa Sembra che c'è scritto nell'obiettivo Prova ad aprire la cassa Prova a sparare Iniziamo col cassetto Guarda un attimo l'ombra Sono i cosi I rami Musi gira C'è la bambina tipo I rami di cosa che non c'è niente nero È che sta piovendo C'è un cazzo Vai leggili Andiam bene Tra le luci dai vediamo dai Grazie Ho perso Te lo meriti Finiscilo Sai che tua madre è un po' puttana Si è coperto per un motivo Già Allora Vaffanculo siete stati voi Ma avete detto Perché vai prima in quello Aspetta 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 E' tutto vuoto Ma c'hai quale cosa cazzo Eeeh vabbè Ma ha bisogno qualcosa per pittuare Ah ma sono pannelli Cazzo ci servivano a noi quando abbiamo ripito Ma sono tutti rotti Ma sono tutti rotti Eh sono tutti quelli che ha rotto Cazzo Indietro Sedia elettrica Sedia elettrica Ma che cazzo ha fatto in sta stanza Eh Ho sborrato sino C'è stato un omicidio sicuramente Vorrei potertelo dire Ma sei ancora troppo piccolo Ma non rompermi Perché? Hai camminato su un pennarello e si è rotto Per fortuna che non senti i suoni Solo l'infarto veniva a me Ma no Lo lascia aperto Ah ok ho preso quello di sotto Vai Carta Tanta carta Che non posso aprire Cioè scusate Questo qui poi è a casa sua Come fanno? Il lusso rotolo tanta carta Non è che posso fumarmi un po' di pipa eh Così muori Magari cazzo Guarda l'ultimo L'ultimo cassetto Eh era quello l'ultimo cassetto Perché mi sa che hai tipo risvegliato qualcosa Ok secondo me devi andare nel sottorale No devi andare in coso? Ma rega Devi andare nel tuo ufficio Ha detto lui Rega guarda non esiste Ma ha detto che nel suo ufficio ci sono le chiavi Eh devi prendere le chiavi Il tipo che vuoi È la casa che vuoi Deve andare nel sottorale Eh Questa volta Ma che cazzo non eravamo qui prima Ma Ma che Hai cambiata la casa? Rega non eravamo qui prima Ma che Ho cambiato Ho cambiato No rega Hai sbagliato porta mi sa No no è cambiata Guarda dietro Ma rega Ce n'è solo una di porta Ma rega siamo entrati ed eravamo dietro al quadro Allora io non ve lo vorrei dire Ma mi è già capitata una situazione del genere Perché io sono stupido Ho aperto dei video di mappe horror di minecraft Eh Guardati Aspetta C'era uno Ti giuro era la stessa cosa C'era un dipinto E questo qui andava a vedere il dipinto E dopo che lo vedeva C'era un insieme di susseguirsi di stanze così In cui non prendevi paura Però era super inquietante Ed erano dei corridoi lunghissimi Che diventavano sempre più lunghi Ah faceva così Fermati Fermati Tanto è che siamo già a 13 minuti Di nuovo Si esatto Vedo che passo nel fretto il tempo Quanto è? È stato mezz'ora intanto Hai fatto mille passi Andiamo bene Quindi E ne faccio 2.000 solo così Cazzo Adesso lo metto qua Tutto a posto Come sta andando? Ti piace questo gioco? Ti piace questo gioco? Sì sì Ti piace questo gioco? Sì sì Bene Quindi lasciate like Commentate A chi vedeva il canale se non lo avete fatto Ci vediamo domani con il prossimo video Salutate voi due Oh potete anche salutare Ah 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 itso Tirare un bel этом Analizzare un bel attivo Tanto'